Allora, perché io mi sono sempre interessata di genetica, di medicina prenatale e di infertilità, infertilità di coppia, di embriologia, quindi biologia della riproduzione. Perché abbiamo visto una diminuzione nell'arco di 30-25 anni, abbiamo assistito a una diminuzione della fertilità, per una serie di motivi, sicuramente l'ambiente in cui viviamo non è quello che ci aiuta, anche a livello socio-economico non abbiamo un grosso aiuto, quindi le donne che prima, diciamo che negli anni 90-2000, inizio X, avevano di media 31 anni, oggi le donne che si presentano a fare riproduzione assistita, a cercare una riproduzione assistita, ne hanno 39. E questo chiaramente non aiuta, perché è chiaro che l'età della donna è fondamentale, gli ovociti sono fermi lì da un pezzo e su questi ovociti, per quanto, come diceva il collega, sono più protetti rispetto agli spermatozoi, quindi sono meno soggetti all'ambiente, comunque stanno lì e invecchiano. E quindi le onopledie degli ovociti sono una delle cause principali della non formazione poi degli embrioni. Quindi la qualità ovocitaria è fondamentale. Fondamentale è anche la qualità ovviamente dello spermatozoo. Lo spermatozoo poi è stato trattato in un modo un po' strano, in che senso? Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedendo che c'era un calo della qualità del liquido seminale, ha pensato bene non di capire, cercare di capire cosa fare, ha abbassato i livelli. Ma abbassare i livelli non significa aver cambiato qualcosa. Si è nascosto un problema, mettere la testa sotto il mattone va benissimo, però che cosa stiamo facendo? Nulla. Siamo passati, per esempio, dalla morfologia che era del 15% di forme normali, a ritenere normali le forme al 4%. Per me normali non lo sono. Cioè vuol dire che soltanto il 4% della popolazione maschile ha delle forme, può restare, può dare gravidanza e può fecondare con quel tipo di morfologia. Il 4% mi sembra un po' bassino. Un'altra cosa, quando si va a guardare i dati del Ministero della Salute, questi sono quelli usciti quest'anno, perché vanno sempre un po' indietro con gli anni di due anni, andiamo a vedere che chi si presenta nel primo livello a fare dei tentativi di primo livello, cioè non di fecondazione assistita, ma di inseminazione intrauterina, e quindi il primo passaggio a cui la coppia si rivolge, e le cause presentano un'infertilità idiopatica del 38,3%. Questo 38,3% a me sembra abbastanza elevato. Che cosa significa? Che non sono stati scrinati bene. Perché? Perché si fanno sempre le solite stesse indagini, non si va a fondo, si considera l'organo come al solito e non si considera l'insieme della persona e l'organismo in che condizioni si trova. Poi scende chiaramente entrando nel secondo livello, quindi terapie più avanzate, le persone hanno fatto più tentativi, sono state scrinate ancora di più e quindi l'infertilità idiopatica dà un risultato del 16%. Questo vuol dire che forse non si mette la giusta attenzione sin dall'inizio sulle coppie. E poi parliamo di genetica. La genetica classica. Io divido la genetica classica dalla genetica funzionale. La genetica classica è quella che tutti quanti abbiamo sempre eseguito, quindi la parte del cariotipo, la fibrosicistica, la trombofilia, tutte quelle patologie che tutti quanti sappiamo che vanno prese in considerazione quando si incontra una coppia con un periodo di rapporti mirati che non hanno portato ad una fecondazione. Quindi si comincia a scrinare la persona, si scrina la donna in genere con queste analisi, sempre di tipo genetico, citogenetico o di genetica molecolare. Quindi queste sono le varie analisi che si effettuano. E nell'uomo invece si fa sempre un'altra serie di valutazioni di tipo di genetica classica, quella che è più importante è quella del gene per la fibrosicistica, perché nell'uomo la fibrosicistica quando è portatore non crea praticamente soltanto un problema poco evidente di essere portatore, ma può dare infertilità per agenesia dei dotti deferenti. E poi c'è il problema delle microdirezioni del cromosoma Y, quando la concentrazione è inferiore ai 5 milioni per millilitro. Quindi anche questa è una valutazione importante, ma non tutti la eseguono. Come non tutti eseguono la frammentazione del DNA spermatico. Nei centri di PMA poco si vede fare questa analisi, che invece è importantissima, perché le frammentazioni del DNA spermatico non sono altro che la manifestazione di un danno ossidativo a carico degli spermatozoi. Ma oltretutto il vero danno non sta negli spermatozoi stessi, non lo procurano gli spermatozoi stessi, ma il plasma seminale in cui sono, che presenta sostanze ossidanti, e quindi più stanno in questo plasma seminale, maggiormente aumenta il rischio di frammentazioni. Poi ci sono i casi di azorspermia, per i quali vanno poi fatte una serie di valutazioni, ma queste fanno sempre parte della genetica classica. Però andiamo avanti, perché la genetica non è quella di quando 30 anni fa io ho finito l'università, dove io ne ho fatti tanti di esami di genetica, perché mi andava di farli, se no ne bastava fare uno solo, ma era genetica, cito genetica, la genetica che ancora parlava di Mendel, dove per carità Mendel esiste sempre, però il discorso è che dobbiamo passare a valutare tutti i passaggi successivi che soltanto da poco vengono presi in considerazione. E quindi si è trattato poi di ricominciare o di continuare a seguire a studiare la genetica, perché è molto diversa, è molto cambiata da quello che era all'inizio. E che cos'è la genetica funzionale? Praticamente valuta gli aspetti dinamici di quello che è la genetica vera e propria, cioè le basi della genetica, tutti i meccanismi che sono la trascrizione, la trasduzione, la regolazione dell'espressione e le interazioni tra le varie proteine, tra gli enzimi. Quindi risponde alle funzioni a livello dei geni, dei trascritti e dei prodotti per capire bene come si può arrivare alla funzione delle proteine. E quindi è la funzione delle proteine poi che può creare il danno. E queste proteine si formano da una serie di attività biochimiche del DNA e dell'epigenetica. Quindi l'integrazione per comprendere questi sistemi biologici viene da mettere insieme la genomica, l'epigenomica, la trascrittomica, la metabolomica e la proteomica. Tutte queste analisi, tutte queste considerazioni sono l'innovazione della genetica. Quindi quali sono gli obiettivi? Identificare e capire quali sono le mutazioni, i fattori regolatori che sono coinvolti nello sviluppo o nella repressione di patologie che possono poi, che vengono da fattori genetici e fattori ambientali. Quindi ritorniamo al discorso del collega che praticamente si basa sul, lui studia ciò che l'ambiente fa sul DNA, sugli spermatazzoi e quindi sul DNA. Certo molto dovremmo fare anche per quanto riguarda il liquido follicolare, capire la differenza che c'è tra ovociti che provengono da follicoli che presentano un grado di stress ossidativo delle sostanze che possono danneggiare. Questo è molto complicato, comunque ci bisogna lavorarci molto sopra perché avere il liquido follicolare non è così semplice. quindi tutti questi saranno, tutte le conoscenze che noi riusciremo ad avere sui meccanismi che sono coinvolti nell'equilibrio tra ciò che è fattore genetico, conoscendoli a fondo, e ciò che è sistema ambientale, rapporto con l'ambiente, ci permetterà di identificare dei biomarcatori che potranno essere sia prognostici che diagnostici. Facciamo attenzione su una cosa. La genetica classica valuta le alterazioni dei cromosomi, ma le alterazioni grossolane, di numero o di forma, invece la medicina funzionale, la genetica funzionale si interessa di tutto quello che c'è ancora più profondo nel DNA, quindi va a valutare i polimorfismi. I polimorfismi però sono una variante, non sono patologici, sono semplicemente una variante che può esserci o può non esserci, ma se c'è origina, può originare una proteina alterata, perché il polimorfismo non è altro che il cambiamento di un singolo nucleotide lungo la catena del DNA. Quel cambiamento può far slittare la formazione della tripletta che crea il singolo aminoacido, quindi la variazione di un aminoacido all'interno del DNA fa sì che la proteina che si dovrà formare poi, trascritta sull'RNA, darà qualcosa che non è identico alla proteina funzionale, ma può essere o ipofunzionale o essere un non senso, cioè non dare nessun problema, oppure rendere veramente questa proteina non idonea a funzionare regolarmente. E di esempi ce ne sono poi tanti in questi casi. Quindi gli SNIP in realtà, che sono appunto i polimorfismi a singolo nucleotide, possono essere d'aiuto per comprendere l'infertilità idiopatica, perché poco conosciamo di questo, sui meccanismi complessi, ma i polimorfismi possono essere alla base di una variazione che può in qualche modo danneggiare poi tutto il sistema che è estremamente complesso. Poi abbiamo assistito alla caduta del dogma, un gene è una proteina, sappiamo che non è così. Il gene può creare più proteine, quindi non è un'identità, un dogma, un'identità certa, ma ha la sua variabilità e dipende da una serie poi di meccanismi che sono alla base dell'epigenetica. Quindi a questo punto il concetto di gene lascia spazio alle variazioni e alla valutazione di cosa può succedere se qualcosa varia. Quindi diventa molto più complesso fare un'analisi di questo tipo. Quindi non è più l'organizzazione biologica legata al programma fisso scritto nella doppia elica del DNA, ma è un programma che lavora insieme a funzioni di autoprogrammazione del DNA stesso e dei sistemi di trascrizione. Quindi i meccanismi sono estremamente complessi, i meccanismi epigenetici, e sono meccanismi di sovrascruttura. Cioè io posso avere il DNA unico con una sequenza di aminoacidi tutti uguali, quindi di proteine che saranno uguali, però il sistema epigenetico che cosa fa? Si inserisce e dà l'idea di come deve funzionare questo sistema. Cioè spiega, è come quando si legge il libro, ognuno legge le stesse frasi ma le può interpretare in modo diverso. E oltretutto abbiamo visto adesso che l'epigenetica agisce in collaborazione con le sostanze endogene ed esogene che ci vengono dall'ambiente o dall'ambiente interno dell'organismo o dall'ambiente esterno e in tal modo cambia, siccome questo ambiente cambia in continuazione, l'azione epigenetica a sua volta cambierà e interagirà sempre in modo diverso con il genoma statico. Nutrigenotica si intende appunto con l'interazione tra tutte quelle sostanze nutrienti che ci vengono dall'ambiente e che sono in grado di controllare l'espressione dei geni. Quindi il prodotto finale non sarà più quello che si pensava, ma può subire delle modifiche e quindi le vie metaboliche vengono coinvolte e variate. Questa è praticamente come c'è un'interrelazione tra il cibo, quindi le sostanze e i nutrienti e il DNA, e come il DNA a sua volta interagisce con le sostanze. Questo va bene. Allora, vediamo. Ecco, un polimorfismo è presente in genere, si ritiene tale quando è presente in popolazione almeno nell'1% della popolazione, altrimenti non viene considerato. I polimorfismi poi sulla catena del DNA possono reagire in più punti, possono essere presenti nelle regioni regolatorie, nelle regioni codificanti o nelle regioni non codificanti. Quindi a seconda di dove saranno presenti avranno il loro peso. Quindi la costituzione genetica individuale predispone a una risposta specifica agli stimoli ambientali. Conoscendo tale predisposizione è possibile prevenire tante patologie, soprattutto quelle di tipo, in questo caso, di tipo degenerativo. L'ipotesi di Barker. Barker è stato uno dei primi che ha parlato di epigenetica senza sapere che cosa fosse l'epigenetica. perché lui era un epidemiologo che durante la guerra vedeva delle persone che erano state, che avevano patologie di tipo diabete, diabete, danni a livello cardiocircolatorio, sindrome metabolica in generale, e intorno ai 30-40 anni avevano questi problemi. E si chiese, e trovò che erano tutti figli di madri che avevano vissuto un periodo di carestia durante la guerra. Quindi che cosa suppose? Che era a livello materno il problema che si creava poi nella patologia dei figli, nella prima generazione. E perché? Perché secondo lui, che appunto faceva delle ipotesi, perché ancora non si parlava di epigenetica, non ne parlava nessuno in quel momento, in carenza nutrizionale il feto che cosa fa? Cerca di assumere le sostanze necessarie e di salvaguardare soprattutto gli organi più importanti, cuore e cervello. Facendo così si abitua a trovarsi in una situazione, si adatta ad una situazione di carenza e quando si troverà poi nell'ambiente esterno, durante la crescita, durante la vita, non saprà più reagire nel modo giusto invece all'abbondanza. Questo concetto crea il concetto di fenotipo risparmiatore, ma questo fa sbilanciare, crea uno squilibrio nella capacità dell'organismo perché si era abituato come embrione, come feto, ad avere questa non disponibilità e di fronte all'abbondanza non sa più reagire. E quindi questo è il modello predittivo adattativo che appunto pone le basi del motivo per cui i bambini crescevano con basso peso alla nascita, con il rischio di sviluppare poi patologie appunto in età adulta. Quindi lo stile di vita materna è fondamentale che viene imposto oppure subito dalla madre, chiaramente in quel caso era stato subito, ma anche oggi lo subiamo, con l'ambiente in cui viviamo, con il cibo che mangiamo, perché in generale non si fa molto attenzione a quello che si mangia, si fa una spesa abbastanza di comodo. Quindi questa spesa di comodo è rapida, non dà una qualità poi di nutrienti, perché questi nutrienti che noi troviamo, che sono stati fermi, che arrivano chissà da dove, fermi in un supermercato, alla fine è un cibo morto, potremmo chiamare un cibo che non ha più, e sono calate anche le qualità organolettiche del cibo che noi mangiamo. Quindi durante lo sviluppo embrionale questo stile di vita che viene imposto al feto modifica l'espressione del genoma, ponendo le basi alle patologie a lungo termine. Quindi Becker fu il primo a comprendere che la predisposizione all'esigenza delle patologie nell'adulto è data da modificazioni strutturali del metabolismo dovute all'adattamento dell'ambiente materno durante il periodo embo-fetale. Lui lo ha capito, ma non ne conosceva il meccanismo. Il meccanismo l'abbiamo visto dopo. Ci fu un pediatra poco dopo di lui che comunque fece un po' più chiarezza e quindi cominciò a ragionare sul fatto che da dove viene il rischio malattia? No, aspettate che... Questo di sopra, vero? Il rischio malattia viene dal fenotipo dell'individuo adulto, ma da che cosa è dato questo fenotipo? È dato da una storia familiare che agisce comunque sul genotipo e crea e determina il fenotipo alla nascita. Però gli affetti ambientali hanno il loro peso sulla storia familiare, sul genotipo, con i cambiamenti epigenetici. Da qui comunque si crea il fenotipo finale che sarà quello poi su cui agirà l'ambiente esterno. Perché l'ambiente esterno è anche quello del periodo fetale, però c'è un ambiente esterno che agisce dopo, durante la vita da adulto. Quindi ambiente prenatale più ambiente postnatale crea una risposta adattativa e va a formare il fenotipo adulto. E da qui il rischio malattia. Questo era un pediatra. Quindi da che cosa è determinato il fenotipo? Non dal genotipo in sé, ma dalla sovrapposizione di un'impronta che chiamiamo segnale epigenetico. Quindi l'influenza dell'ambiente, la nutrizione e i vari fattori, altri fattori ambientali, fumo, droga, alcol, qualsiasi sostanza che venga dall'esterno può dare cambiamenti a questi segnali epigenetici. Quindi riduce la predisposizione geneticamente determinata, la varia a questa predisposizione. E su questo agisce. E quindi tutte queste sostanze a cui noi siamo esposti sono dei regolatori dell'espressione igienica. E queste trasformazioni vengono trasmesse da una generazione all'altra. Quindi cos'è lo studio delle modificazioni? Va fatto tramite l'ambiente esterno, che è l'esposizione alle sostanze, le abitudini, gli stili di vita e quelli intrinseci, cioè quelli che sono legati a quello che ci viene dall'eredità materna o paterna. E non è vero che la madre è più importante del padre, perché abbiamo visto, per esempio, che uomini obesi nascono da padri a loro volta obesi. Quindi l'epigenetica paterna ha anche il suo ruolo. Sono, allora, i meccanismi epigenetici sono reversibili. Sono reversibili quando non sono iscritti nei gameti. Se vengono, se sono stati, diciamo, incamerati dai gameti, sia maschili che femminili, vengono trasmessi come tali. E poi poco si può fare per la variazione. Dico bene, professore Purgio? Questo è il meccanismo con cui, praticamente, è il meccanismo chimico con cui avviene un, si forma un legame tra, cioè, un gruppo metilico si lega alla citosina che è una base del DNA facendola diventare citosina metilata. In questo caso si chiude il messaggio, il punto di trascrizione si chiude, il messaggio non passa più del gene e quindi il gene viene oscurato, l'espressione del gene viene oscurata. Questo è uno dei meccanismi, ce ne sono altri. Quindi, questa variazione in un punto delle basi in genere avviene tra la citosina e la timina, però, adesso, ultimamente, si è visto che può avvenire anche con altre basi in minore possibilità. Questo fa sì che, appunto, si formi il segnale epigenetico. La metilazione, praticamente, il meccanismo della metilazione spegne i geni e blocca la trascrizione del gene, mentre gli altri due meccanismi, l'acetilazione e la fosforilazione, agiscono aprendo praticamente quando si apre la catena del DNA che è arrotolata intorno agli stoni, quando si dilata questa catena per creare la trascrizione, per portare avanti la trascrizione, l'acetilazione e la fosforilazione che si legano, il meccanismo chimico che si lega alle code degli stoni, fa sì che il DNA sia trascrivibile. e poi una delle ultime cose che viene presa in considerazione è l'interazione tra polimorfismi ed epigenetica. Che correlazione c'è tra la metilazione dell'isola CPG e il polimorfismo a singolo nucleotide? Praticamente se siccome è la timina quella che si metila, praticamente se questa T un polimorfismo lo ha variata, non è più T ed è un'altra base, questo cambiamento può far cambiare il punto di metilazione. E questo è uno dei passaggi molto interessanti da ancora portare avanti nel chiarimento di tutti questi meccanismi. quindi sia i polimorfismi genetici che i polimorfismi epigenetici nelle regioni regolatorie del genoma hanno il potenziale di influenzare la trascrizione genica anche in collaborazione a questo punto. Questo l'abbiamo già detto quindi è fondamentale la reagazione epigenetica durante l'embriogenesi e quindi è importante il ruolo poi questo ruolo che svolge nell'imprendimento medico e nello sviluppo dell'organismo. Queste sono le varie situazioni perché agiscono sul feto quindi danno la programmazione epigenetica le carenze nutrizionali e lo stress materno possono poi dare disturbi dell'apprendimento la sindrome metabolica patologie come l'autismo e malattie come le neoplasie. Quindi madre a prodotto del concepimento sono esposti ad una gamma di agenti che sono i pesticidi metalli pesanti gli interferenti androgini fumo e un alcol in grado di modificare l'epigenoma fetale e di alterare la programmazione di tessuti ed organi è questo che deve passare come messaggio quindi l'ambiente è fondamentale che sia idoneo per una giusta preparazione del poi del feto la programmazione del feto alcuni di questi polimorfismi per esempio nell'infertilità parlando in particolare dell'infertilità alcuni polimorfismi possono essere idonei per comprendere meglio andando a fondo parliamo di analisi diciamo di terzo livello quando si guarda una coppia in genetica in medicina in genetica funzionale andrebbero valutati una serie di polimorfismi legati ai recettori ormonali all'MTHFR che è importante per il ciclo del carbonio dell'omocisteina insomma questa serie di vedere un attimino come questi polimorfismi sono presenti nella nella persona nella donna o nell'uomo nell'uomo ce ne sono altri e quindi cercare di aiutare sempre con nutriceuti con delle sostanze non tanto quelle alimentari perché è un po' difficile dare il giusto acido folico anche se ci sono dei dati su quanto acido folico deve prendere una donna in gravidanza è importante anche per una serie di patologie che si possono venire a creare ed è importante anche oltre a questo tipo di polimorfismi che vanno a guardare in particolare la parte ormonale della donna importante anche vedere qual è lo stato della risposta infiammatoria di questa donna perché lo stato infiammatorio è uno dei motivi che possono comunque essere coinvolti nella nella scarsa fertilità nell'uomo se ne guardano altri per valutare se a volte si possono avere degli spermiogrammi che dei liquidi seminali che presentano uno spermiogramma normale che poi normale non è e come facciamo a capirlo si potrebbe andare a fondo analizzando una serie di polimorfismi che intervengono nella capacità di movimento oppure di numero di morfologia però ripeto sono analisi che sono di terzo livello non si fanno in prima battuta e nell'uomo è sempre bene aggiungere poi il gruppo degli SNIP dello stress ossidativo perché per l'uomo sono veramente importanti tanti questi li passiamo chiaramente anche i fallimenti riproduttivi possono venire da problemi legati sia ai polimorfismi che all'ambiente scarso di alcuni nutrienti è chiaro che è compito degli operatori di chi lavora con le persone in medicina o in biologia che sia fare informazione perché se noi per primi non facciamo informazione spieghiamo alle coppie è difficile che qualcosa si muova nell'ambito medico e quindi io vedo per esempio che sono più le coppie che vengono a chiedere a domandare se possono fare qualcosa in più ma poche vengono inviate dai medici per esempio i medici di base che sono il primo approccio non seguono proprio per niente queste cose quindi è importante mettere le coppie che decidono di avere un figlio nelle migliori condizioni di benessere fisico e psicologico prima di cominciare il corso riproduttivo è inutile arrivare a 38 anni quando ormai c'è poco da fare bisogna pure correre perché poi la coppia vuole correre in questi casi per ottenere un figlio e pensa di ottenerlo con le tecniche ma se a queste tecniche non si aggiunge un buono stato di salute queste tecniche daranno risultati minori e quindi è importante che ci sia una collaborazione tra i vari specialisti perché si deve integrare il lavoro tra l'andrologo il biologo che vede gli ovociti che vede gli spermatozoi e il ginecologo chiunque lavora con la coppia anche lo psicologo chiaramente il nutrizionista hanno il compito di valutare nell'insieme la persona e non ognuno il singolo suo settore perché si avranno sicuramente migliori risultati quindi l'importante è cercare di costituire centri di medicina integrata che ascoltino che seguono bene la diagnostica che seguono dei percorsi per una medicina di procreazione consapevole ma anche per la salute personale ok grazie 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 a tutti